È stata una partita caratterizzata dagli episodi, nel senso che dopo 15 secondi abbiamo preso gol. Poi abbiamo affrontato una squadra che veniva da un risultato negativo, forse un po' più cattiva rispetto a noi. La cosa buona è che oggi siamo stati sempre in partita, nonostante la squadra avversaria è stata un po' più cattiva rispetto a noi, però secondo me la sconfitta è meritata, sono stati più bravi di noi in alcune circostanze, però da parte nostra posso dire che la cosa positiva è che sappiamo che il campione di Serie D è difficile, quindi incontreremo ancora delle partite di questa maniera, però la squadra è stata sempre in partita fino alla fine, anche in dieci. Noi dobbiamo solo pensare a salvarci, dobbiamo combattere su tutti i campi per raggiungere quanto prima la salvezza, non possiamo parlare di altre situazioni, anche perché ad oggi noi abbiamo cinque punti e quindi solo la salvezza. Abbiamo accusato molto la partita di domenica scorsa contro il Molfetta, anche perché noi siamo una squadra che dal punto di vista fisico spende molto, quindi qualche giocatore c'è stato meno dal punto di vista fisico, quindi noi non possiamo permetterci di giocare con giocatori grandi, importanti, sotto tono. Quindi dobbiamo capire come gestire meglio le forze, però nessun dramma, ecco. Ripeto, fino a quando una squadra ti surclassa oppure una squadra ti mette sotto anche come risultato, va bene, però la cosa positiva è che noi siamo stati in partita fino all'ultimo secondo, anche in dieci.